Riaprire da subito i cantieri dell'autostrada Gela, Ragusa, Siracusa, riprendendo i lavori si darebbe uno sbocco occupazionale non indifferente al settore edile del luogo. E non solo. Petizione popolare in piazza Umberto I da parte della sezione di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, raccolte 500 firme. Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale ha deciso di fare questa petizione popolare, una raccolta di firme, chiamiamola petizione popolare, da inviare a chi di competenze nelle sedi opportune per chiedere vivamente che qualche cantiere della famosa costruenda autostrada Gela-Siracusa possa partire da Gela. Gela ha bisogno di lavoro e quindi non si capisce perché Gela deve essere l'ultima ruota del carro di questo famoso progetto che già viaggia con qualche anno di ritardo, perché se in memoria non mi tradisce questo lavoro o questa opera doveva essere completata nel 1973. È passato qualche anno, ma comunque non vogliamo fare polemiche con gli anni e con i trascorsi, però chiediamo a viva voce che chi di competenza, e chi di competenza significa la deputazione regionale, l'Assemblea regionale siciliana, il presidente della regione Sicilia, si adoperino per fare affinché qualche cantiere possa partire da Gela per dare delle risposte a questo nostro territorio oramai martoriato e ormai quasi al collasso e alla crisi economica, poi sotto gli occhi di tutti purtroppo i suicidi e purtroppo la disperazione che si registra in questa nostra città. La petizione continua presso la sede di Fratelli d'Italia in Corso Vittorio Emanuele. Un altro gazebo verrà collocato il 15 maggio a Macchitella dalle 9.30 alle 13. Il nostro obiettivo è quello di portare e fare realizzare infrastrutture nella nostra città oggi veramente abbandonate dalla regione e dall'ANAS. Non si capisce per quale motivo l'autostrada Gela-Siracusa parta soltanto ed esclusivamente da Siracusa e non da Gela, per questo noi chiediamo che immediatamente i cantieri possano aprirsi nella nostra bellissima città.